Il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza per la frana di giugno a Ponte di Formazza. Lega Ambiente lancia l'allarme, le acque del lago di Arona, la confluenza Corriò San Luigi sono altamente inquinate. Il Comune di Omenia incaricherà uno studio di ingegneria di Domodossola per lo studio di fattibilità della circonvallazione. Appuntamento con Sportivamente, stasera spazio alla Sparto e il lago Maggiore Marathon e l'Azzurra Giovanna Selva. Ben ritrovati dalla redazione di VCO, notizie e sanità in primo piano. Quasi unanime il voto con cui ieri sera l'Ossola ha indicato l'area posta sul rettilineo tra Domo e Villa come quella idonea per accogliere il nuovo ospedale. Presenti 33 sindaci, 4 gli assenti, 32 hanno parlato con una sola voce. Solo Ornavasso ha detto no, motivando la sua scelta. E la zona di regione Boschetto e confini tra i comuni di Domo e Villa, prossimo allo svincolo della statale del Sempione, l'area che l'Ossola candida per ospitare il nuovo ospedale. Lo hanno deciso 32 dei 33 sindaci presenti ieri sera all'incontro convocato nell'aula storica della resistenza dal sindaco Pizzi. Un solo voto contrario, quello di Ornavasso, assenti come nelle previsioni, Premosello, Vogonia, Pieve, Calasca, quest'ultima giustificata per motivi di salute. Dunque, a meno di due settimane dalla richiesta regionale perché l'Ossola individuasse il sito idoneo, ecco arrivare la risposta. 200.000 metri quadrati di terreno, catalogato in classe 2, ben collegato, inserito in un contesto urbanizzato. Questi sono stati i punti forti con cui il sindaco Pizzi ha convinto i colleghi della Valle sulla bontà del progetto. Ho faticato meno di quanto potessi immaginare, confida a fine assemblea un sorridente Lucio Pizzi. Meno di due ore di assemblea per decidere. I sindaci hanno preso la parola per appoggiare la candidatura domese e rimandare al mittente le affermazioni di chi ha parlato di incontro non deputato a ratificare decisioni. Ad aprire la parata di interventi, il primo cittadino di piedi mulera, Lana, ha sostanzialmente ritirato la candidatura del suo comune. La soluzione domodossola è ambiziosa, siamo convinti della sfida, ha detto. Poi gli altri sindaci da Formazza a Santa Maria Maggiore, passando per Crevole, Villadosso, Lacrodo, Bonianco, Pallanzeno, Masera, Varso, Macunaga, Montescheno, Trasquera, Vanzone e Mergozzo. Lincio, in un comunicato oggi, precisa di aver parlato a nome del suo comune, Trasquera e non certo in veste di presidente della provincia. Qualcuno ha paventato timori per le lacerazioni che la scelta comporterà in provincia. Tutti concordi però nel ritenere che l'Ossola non può perdere questo treno. È l'ultima chiamata, siamo alla terza candidatura ossolana. Speriamo si era volta buona, hanno rimarcato i sindaci, che hanno assicurato pieno appoggio al comune di Domodossola. Formazza, che quattro anni fa si astenne nella votazione del progetto dell'ospedale Unico Ornavasso, ha difeso con forza la candidatura domese. Benvenga questa scelta, è quella che più si avvicina ai territori marginali come il nostro e più penalizzati, ha detto Bruna Papa, strappando l'applauso dei colleghi e del numeroso pubblico presente in aula consigliare. Filippo Cigala Fulgosi, sindaco di Ornavasso, unico voto contrario, ha preso la parola per motivare davanti all'assemblea e suonò il progetto. E tra poco vi faremo sentire proprio la voce del sindaco Cigala Fulgosi e perché non ha avvallato anche lui il progetto domese. Prima però il sindaco Pizzi che ai nostri microfoni a caldo ha parlato di un momento emozionante. È stata una serata da significato particolarmente profondo, è stata una grande emozione trovarsi in questa sala consigliare, la sala della Repubblica Partigiana dell'Ossola, dal valore simbolico importantissimo, con quasi tutti i sindaci dell'Ossola così uniti. Ripeto, un'emozione davvero incredibile. A questo punto bisogna mettersi in pista e riuscire a fare quello che non è riuscito a fare nessuno in questi vent'anni. Realizzare davvero un nuovo ospedale a servizio di Domodossola, dell'Ossola, ma mi permetto di dire della provincia tutta. Un sì trasversale quello che è arrivato questa sera? Un sì trasversale come è giusto che sia perché la politica non dovrebbe minimamente entrare in temi come la sanità. A dire la verità la buona politica dovrebbe permeare qualunque decisione di un saggio amministratore. Purtroppo però questo succede di rado. Sul sito del Comune da anni oramai campeggia un countdown. Era dedicato all'ospedale di Ornavasso. Tra pochi giorni arriverà allo zero. Poi lei ha annunciato che ne partirà un altro. Sì perché come sono solito fare, chi mi conosce lo sa, non faccio sconti a nessuno. Per me non è un problema di centro-destra o di centro-sinistra. Quando molti anni fa appartenevo a un partito sono sentato un bravissimo oppositore interno, come diceva qualcuno. Quindi al 25 novembre scadrà il countdown dell'ospedale di Ornavasso. Non abbiamo visto purtroppo o per fortuna neanche un mattone. Adesso è il turno di essere concreti e di realizzare davvero quella struttura. L'amministrazione comunale di Domodossola farà tutto il possibile per quanto di competenza per fare la sua parte molto velocemente. E' chiaro che poi partirà il countdown perché la regione ha preso una decisione, ha dimostrato secondo me grande serietà, grande determinazione. Poi però bisognerà che faccia tutto quello che deve fare anche lei per realizzare finalmente questa struttura. Ed ora sentiamo perché il progetto domese non ha convinto Ornavasso. Io non ho detto di no all'ospedale sulla piana dell'Ossola. Io ho detto che il programma sanitario della regione Piemonte proposto al Tecnoparco, cioè quello di un ospedale nuovo ridotto in capienza e il mantenimento dell'ospedale Castelli, apparentemente potenziato con un finanziamento, per me sarà destinato a non avere il futuro che io auspico invece con un ospedale unico. E ho anche detto che per me, per la mia comunità, perché io parlo solo a nome della mia comunità, il concetto di baricentrico, essendo noi veramente baricentrici, è assolutamente rilevante. Quindi tendenzialmente se avesse la regione Piemonte, in via del tutto egoistica ovviamente, avesse proposto l'ospedale unico nuovo a Domodossola, probabilmente avremmo votato a favore. Lei ha anche dato una documentazione in mano al sindaco da allegare al verbale di questa seduta? In realtà io ho semplicemente trasposto il mio intervento che mi avete sentito leggere, con preghiera, siccome ci sono le motivazioni tecniche che io ho adotto, da allegare al presidente della regione Piemonte. C'è una regione tecnica per cui ho chiesto di fare questo, tutto lì. Però lei anche già nella seduta con il presidente Cirio ha detto che si riserverà delle azioni per le spese che ha già sostenuto per il progetto dell'ospedale Ornavasso, è così? Non è una questione per delle spese che ho già sostenuto. Ho detto che avrei valutato la documentazione tecnica proposta alla regione Piemonte e sulla base di quello avremmo fatto le nostre valutazioni anche di quel tipo, che è esattamente la ragione per la quale ho chiesto di allegare la nota oggi. E in contemporanea ieri sera, mentre a Domo si riunivano i sindaci, a Verbania, Palazzo Flaim, il sindaco Marchionini e il presidente del Consiglio Albertella hanno riunito associazioni di volontariato, di categorie, per decidere il da farsi per far sì che la regione desista dal suo progetto. L'unica assemblea titolata dalla legge regionale a esprimersi, a concertare con la regione un parere è la conferenza dei sindaci dell'Asla, quindi gli 83 sindaci. Poi ci possono essere incontri, ma hanno il valore appunto di consolidare delle relazioni. Noi dopo lunedì il distretto del Verbano si è riunito in maniera formale, ha deliberato all'unanimità il dissenso verso la proposta della regione e il sì alla medicina territoriale e l'ospedale unico sull'asse Gravellona-Verbagna-Ornavasso. A fronte di questo tutte le associazioni di categoria del territorio, gli ordini professionali, anche stasera come abbiamo già fatto il 25 ottobre, concordano su questa linea e quindi sono un altro ulteriore elemento forte di richiesta alla regione perché riveda gli indirizzi che sono stati finora dei pronunciamenti di parola, cioè nessun atto, nessun documento è ancora pervenuto. Però sono sufficienti in questo clima ormai che qualcuno ha voluto creare di profonda divisione che non parte sicuramente da noi a mobilitare. Quindi, Consiglio Comunale Aperto, invitiamo tutti il 16 di novembre al palazzetto e sicuramente, dato che l'ascolto manca, neanche a chi lavora in ospedale e ai medici si vuole dare ascolto, scenderemo in piazza affinché Torino capisca che non può lasciare una condizione di questo tipo. Avete invitato al Consiglio Comunale il Presidente Cirio come conferenza dei capi gruppo e poi lei dice non escludiamo il referendum. Certamente, l'abbiamo invitato perché ci sembra corretto che il Presidente della regione o l'assessore alla sanità vengano a Verbagna a illustrare ai cittadini verbanesi quanto hanno illustrato ai sindaci venerdì scorso. E per ascoltare anche quelle che sono le osservazioni, le riflessioni e le reazioni dei cittadini verbanesi. Noi stiamo cercando di dare delle risposte non contro qualcuno ma per qualcuno, per il diritto alla salute di tutti i cittadini, non solo i nostri. La mobilitazione è partita con una forte sensibilizzazione ma con la richiesta della gente che oggi ci chiedeva dove sono i moduli da firmare per poter sostenere questa nostra posizione che è inaccettabile. L'assemblea si è conclusa con l'appello del Sindaco Marchionini perché i verbanesi scendono in piazza. Intanto al Presidente provinciale di Federalberghi è stato affidato il compito di interloquire con il Governatore Cirio per far valere le ragioni del comparto turistico. Questa sera il Sindaco le ha chiesto di fare un po' da tramite con il Presidente della regione a nome degli operatori turistici del VCO. Sì, ed è un impegno che chiaramente io ho allargato anche a Faita Piemonte, a Tranquillo Manoni, che anche lui è Presidente regionale, per cercare di capire qual è la volontà del Governatore Cirio, considerando che ha sempre avuto grande rispetto per il nostro territorio, sul futuro del turismo del nostro territorio. Come ho detto, siamo oltre a 3 milioni di presenze, ma sicuramente entro fino ad anno, con i dati aggiornati, siamo a oltre 4 milioni, a noi preme molto l'urgenza. È vero, le assistenze ci sono sul territorio e sono ottime, sia private e convenzionate che pubbliche. Però quando c'è un'urgenza, per noi vorremmo capire dove, come e quando recuperare una vita. Come ho detto prima, qualcuno mi ha detto che sono troppo rapido in macchina, ma i sette minuti che dividono da Gravellona a Domodossola possono dare ancora una speranza di vita a qualcuno che voleva trascorrere una vacanza serena sul territorio e invece non ha una grande necessità. È stato condannato a un anno con la sospensione condizionale della pena subordinata a risarcimento di 15 mila euro la parte civile come provisionale e altra somma da definirsi sede civile, Gregorio Spozio, milanese di 85 anni. L'uomo era finito a processo con l'accusa di essere il mandante dell'incendio doloso che nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2017 distrusse il Roxy Bar a Stresa. Oggi la sentenza del giudice Annalisa Palomba, la PM Anna Maria Rossi, aveva chiesto la condanna a due anni. Uno dei presunti complici aveva già patteggiato una pena di otto mesi per la terza persona coinvolta. L'inter giudiziario è ripartito dal principio perché l'indagato non era stato interrogato. Via libera del Consiglio dei Ministri allo stato d'emergenza per il Comune di Formazza a seguito della frana che a giugno ha fatto paura all'abitato di Ponte Avaldo. È stato il deputato Enrico Borghi a far rimbalzare la notizia da Roma all'Ossola. Stato di emergenza per il Comune di Formazza lo ha deliberato ieri il Consiglio dei Ministri su proposta del Premier Conte. La dichiarazione arriva a seguito della frana dello scorso giugno. Svariati metri cubi di materiale che staccatasi dalla montagna che ombreggia la frazione di Valdo hanno invaso prate, strade, viuzzi fino alla statale. Frana che ha causato anche l'inagibilità per alcune settimane di 40 fraccase e attività commerciali. Lo stato di emergenza permetterà ora all'amministrazione Papa di intervenire e permettere in sicurezza l'area. Gli studi hanno evidenziato lavori per circa un milione di euro. Si tratta di opere che oltre alla posa di reti di accumulo in grado di evitare la caduta a Valle di Sassi andranno a reggimentare le acque. A fine lavori anche il ballo già realizzato sarà più sicuro. Nei mesi scorsi sono stati realizzati gli interventi di somma urgenza. Le nuove opere permetteranno al Comune di Formazza il ritiro dell'ordinanza che oggi impone lo sgombero delle 40 unità abitative poste a Valle della Frana in caso di maltempo. In caso ARPA preveda codice rosso per queste famiglie e per le attività commerciali poste nella zona scatta lo sgombero temporaneo. Il sistema alert avvisa telefonicamente diretti interessati che devono così lasciare abitazioni e negozi, ha spiegato il sindaco Formazzino. La delibera del Consiglio dei Ministri arriva dopo il lavoro svolto sul campo dai funzionari della Protezione Civile Nazionale che nei mesi passati sono arrivati nella culla dei Valser per un sopralluogo. Hanno verificato la situazione di pericolosità. Il mio grazie va a loro e ai politici che ci hanno seguito dalla Regione fino a Roma, ha concluso Bruna Papa. Vi abbiamo riferito pochi giorni fa dei timori di alcuni cittadini rispetto allo stato di salute delle acque del lago di Arona prossime a Rio San Luigi. Ora a soffragare questi timori arriva anche la presa di posizione di Lega Ambiente. Ci riferisce Franco Filippetto. I capionamenti delle acque del lago dinanzi alla città di Arona hanno rilevato un dato che può tradurre in altamente inquinate. I prelievi del 30 ottobre hanno portato alla ribalta i dati forniti da Lega Ambiente. All'uscita del rio San Luigi, in corrispondenza del lungolago caduti di Nasseria, sono stati riscontrati 24.000 escherichia coli in 100 ml di acqua, quando il limite è 1.000, ben 24 volte superiore. Non va meglio l'esame degli streptococchi fecali ed interococchi. Il valore rilevato è pari a 6.273, ben 12 volte il consentito. Il rio San Luigi sforcia nelle acque del Verbano un centinaio di metri al nord del Lido. Naturalmente i liquami lambiscono con la spiaggia. Le analisi effettuate in prossimità della foce del torrente Vevera sono stati riscontrati 500 scherichia coli, entro il limite massimo consentito. Sono invece 600 gli streptococchi fecali ed enterococchi, solo 100 superiori al limite previsto. Lega Ambiente puntualizza che le analisi del 30 ottobre sono state effettuate dopo il periodo di magra del lago, a seguito di una crescita delle acque ad un livello superiore alla medianua, con l'obiettivo di riscontrare i parametri in situazioni di massima diluizione. Anche in queste condizioni, purtroppo, i parametri compressivi sono elevati. Massimiliano Caligara, presidente di Lengambiente Verbano, dice «I dati sulla situazione di inquinamento delle acque del lago e i relativi rischi per la salute devono essere conosciuti da tutti i cittadini e divulgati dall'amministrazione in modo trasparente tutto l'anno, attraverso una costante attività periodica di monitoraggio e controllo che dovrebbe svolgersi ad integrazione del lavoro di analisi e informazione svolto da Alpa Piemonte». Roberto Signorelli, responsabile locale della goletta dei laghi, afferma «Abbiamo iniziato ad analizzare il fronte lago di Arona in quattro punti dal 2013 e nello scorso anno abbiamo aggiunto un'attività di controllo delle acque gestita direttamente a livello locale, appoggiandoci per le analisi ad un autorevole laboratorio certificato in provincia di Novara». «Ora la viabilità Omenia sogna una circonvallazione, sarà affidato a giorni l'incarico per uno studio di fattibilità, un progetto ai nastri di partenza perché poi bisognerà reperire i finanziamenti». «Tra i progetti del Masterplan uno riguarda anche la famosa circonvallazione di cui si parla da 30-40 anni, adesso è stato fatto uno studio e verrà affidato a un architetto del progetto». «Nel tavolo tecnico del Masterplan abbiamo affrontato la risoluzione dei problemi viabilisti della città e tra questi abbiamo identificato la circonvallazione occidentale come soluzione per risolvere il problema del traffico pesante in Centro-Omenia, quindi abbiamo deciso di dare un incarico per uno studio di fattibilità e quindi stiamo cercando un progettista che possa appunto farci questo studio di fattibilità col quale poi andremo a cercare i finanziamenti per realizzare l'opera. È un'opera non indifferente quanto a costo e quanto a realizzazione perché è prevista una grossa galleria sotto il Parogno, un viadotto sullo Strona che poi esce per ricollegarsi alla Via 4 Novembre, quindi un'opera imponente che necessiterà penso un bel po' di tempo per essere realizzata ma che potrebbe risolvere i problemi del traffico pesante nel Centro-Omenia. Il crono programma cosa prevede adesso? L'affidamento? L'affidamento dell'incarico e poi la redazione di questo studio di fattibilità che immagino necessiti poi di studi geologici, dopodiché essendo un'opera che vale alcuni milioni di euro, prima di redigere un progetto preliminare dovremo avere la sicurezza di trovare i finanziamenti. Siamo allo spazio del giovedì con Donare per Crescere in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO, in primo piano il progetto Autismo Informa che formerà un totale di 320 operatori della scuola. Dare una formazione di base su come approcciare i minori affetti da disturbi dello spettro autistico agli operatori scolastici, insegnanti e non solo, è l'obiettivo del progetto Autismo Informa, promosso da una rete di attori locali che hanno individuato questa come una necessità primaria e condivisa. Sono ASL, ANXA, centri del VCO, Ufficio Scolastico Provinciale, CIS, Sacra Famiglia, Educando, con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO che investe 30.000 euro di fondi extra bando e dei club di servizio. Una problematica molto complessa e quindi nella sua complessità richiede interventi pedagogici, didattici, mirati, adeguati, anche per gestire i comportamenti dei bambini rispetto agli altri, rispetto agli adulti che a volte sono difficili. Quindi ci vuole assolutamente una formazione dedicata, altrimenti la non gestione dei problemi di un bambino autistico a scuola ne crea tantissimi a tutta la comunità educante. Voi avete denunciato proprio una mancanza di formazione di base? Sì, perché le famiglie hanno trovato questa mancanza proprio all'interno dell'ambito scolastico perché i bambini non erano seguiti in modo specifico. Sono un centinaio circa i giovani con disturbi dello spettro autistico nelle scuole del VCO. Il percorso di formazione, con un taglio molto esperienziale, inizierà sabato e interesserà un nutrito gruppo di operatori. Alla fine saranno 320 insegnanti dei diversi ordini scolastici e riguarderà soprattutto i team docenti di quelle classi dove sono presenti i bambini affetti da sindrome di autismo. Il logo del progetto è stato creato dagli studenti dell'Istituto Ferrini Franzosini, ma perché la Fondazione sostiene questa iniziativa? Perché è un progetto di rete, perché il nostro compito è quello di mettere insieme le risorse e cercare di dare una risposta ai bisogni della nostra comunità. In questo caso il nostro impegno è proprio stato quello. Abbiamo messo attorno a un tavolo una serie di enti, istituzioni e associazioni e alla fine è nato un bellissimo progetto. Credo che questo sia l'esempio di quello che deve fare la Fondazione Comunità e l'esempio anche di quanto può fare una comunità coesa e unita. Ed ora ci occupiamo dell'iniziativa che renderà accessibile il Devero ai diversamente abili. È stata presentata nei giorni scorsi nell'ambito di Sagra Mele e Miele a Baceno. Il progetto Devero per tutti presentato nel corso della manifestazione Mele e Miele a Baceno si propone di rendere la splendida conca alpina accessibile ai disabili ma anche alle mame con carrozzine e passeggini. È nato da un'iniziativa del Rotary Pallanza Stresa accolta positivamente dal Comune di Baceno, dall'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e dal GSH Sempione. Insieme hanno predisposto un progetto del valore di 30.000 euro che sul bando assistenza sociale ha ottenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO un contributo di 13.000 euro. Il restante finanziamento è stato garantito dagli enti e dalle associazioni partner. È stato proposto questo service perché il Rotary Pallanza Stresa vuole essere sul territorio e vuole essere significativo sul territorio e chi meglio può essere significativo che non l'aiuto a persone che hanno la possibilità ridotta per poter accedere a delle strutture o dei territori che sono magnifici come il Devero. Insieme, in accordo con l'ente Parco, abbiamo deciso di partire dall'inizio, cioè da dove parte il giro che consente la percorrenza dell'anello della Piana del Devero facendo un tratto che sarà lungo circa 700 metri che dall'arrivo dove c'è la chiesetta porta verso al campeggio. Quindi verranno recuperati materiali già esistenti sul manto stradale, una strada bianca, quindi percorribile solo da mezzi che possono accedere al Devero. Questo materiale verrà trattato e arricchito con un legante strettamente naturale che consoliderà e consentirà di dare un fondo piano e solido duraturo nel tempo. Se l'esperimento si rivelerà positivo, il proposito è quello di completare l'intero percorso nella Piana del Devero puntando poi anche a raggiungere Crampiolo. La filosofia Lean entra al COC di Omenia. Il Lean Thinking è un metodo per organizzare i processi produttivi complessi. I suoi principi fondanti sono stati sviluppati in passato nel settore manifatturiero in questi ultimi anni in alcune realtà italiane. A Omenia lo scorso 23 ottobre è stato organizzato un corso dal titolo Organizzazione Snella in Sanità che ha visto la partecipazione della dottoressa Noemi Virto, Operation Manager dell'azienda ospedaliera di Alessandra. I partecipanti hanno lavorato a gruppi sull'analisi con l'obiettivo di individuare le attività a fonte di spreco e proporre azioni di miglioramento attraverso l'utilizzo di strumenti di Lean Management. E questa sera torna l'appuntamento con Sportivamente, spazio alla Sportway, Lago Maggiore Marathon con Paolo Ottone, alla corsa in montagna con la presenza dell'Azzurra Giovanna Selva e del presidente Fidal del VCO Luigi Spadone. Puntata speciale di Sportivamente è dedicata alla Sportway Lago Maggiore. Abbiamo dunque con noi l'organizzatore Paolo Ottone. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ne parleremo dopo, però direi una edizione 2019 promossa a pieni voti. L'unica, vabbè, quella non puoi farci nulla il tempo, però direi che ci sono tutti i presupposti per pensare positivo anche per il futuro. Assolutamente, la gara è andata bene, abbiamo registrato più di 2.000 presenze, quindi davvero l'unica cosa che mancata è il sole, ma ci sarà in futuro. Insomma, con Paolo parleremo della nuova edizione da Sport Lago Maggiore Marathon e poi parleremo anche della decima, perché ci sono delle novità importanti. Parleremo anche di corse in montagna, lo faremo con Giovanna Selva, pronta a partire per l'Argentina, dove difenderà i colori della nazionale. Sei carica, Giovanna? Sì, prontissima, non vedo l'ora di partire. Insomma, un primo traguardo che ti ripaga di tutti e i tanti sacrifici che hai fatto fino ad oggi. Sì, decisamente, è una grande soddisfazione, sono molto felice di andare. Presidente Luigi Spadone della Fidel VCO, per la federazione, insomma, un fiore all'occhiello alla ragazzina, eh? Assolutamente sì, averne di ragazze come Giovanna, ma il nostro territorio negli ultimi anni comunque ha saputo mandare tantissime giovani eleve in nazionale, quindi dopo Giovanna sono certo, ci saranno altri ragazzi. Intanto godiamoci lei e facciamole un grosso in bocca al lupo. Quindi non perdetevi l'appuntamento con Sportivamente dedicato allo sport del Lago Maggiore Marathon e a Giovanna. Siamo in chiusura per gli aggiornamenti www.wcoazzurratv.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.